La sciopero dei mezzi di trasporto oggi a TC, quali sono le cause? Intanto è uno sciopero nazionale dove la cosa principale è rispetto al pacchetto mobilità che si sta discutendo, anzi domani ci dovrebbe essere anche un primo voto, su una proposta dove secondo noi molto peggiorativa, che diciamo perclude anche la sicurezza, in quanto si vogliono ridurre i tempi di riposo e aumentare le ore di guida. Cioè si porta, si dà la possibilità di aumentare di un'ora al giorno la guida e di spostare le 45 ore previste settimanali verso la quarta settimana e quindi ridurre a 24 settimanali le ore di riposo. Questo chiaramente comporta problemi di sicurezza per tutti i cittadini perché poi vale anche per i camionisti, per gli autobus da noleggio, per il TPL extraurbano e quindi il problema è per tutti, non solo per noi, chiaramente peggiorando anche le condizioni di lavoro. L'altro pezzo invece riguarda la liberalizzazione del trasporto persone che porta a due problemi. Uno rispetto al fatto che dentro ai 100 chilometri si può dare autorizzazioni a aziende private, aziende addirittura anche non italiane, quindi straniere, di fare il servizio. E questo chiaramente porta problemi alle aziende che svolgono quel servizio. L'altro, ancora più importante, è quello che queste aziende possono essere aziende straniere e poter avere la possibilità di non fare il contratto previsto qui in Italia ma di applicare il contratto di quella nazione. Quindi immaginiamo alcune nazioni che contratto hanno, vuol dire abbassare il costo di lavoro, avere ancora di più questa, diciamo, conflittualità rispetto a chi lavora oggi nel mondo del trasporto persone. Cosa chiedete nell'immediato? Bene, intanto chiediamo anche al nostro governo di farsi carico di portare avanti questa questione. Chiediamo che domani, nella prima votazione che ci sarà di questo pacchetto, si schiedino, diciamo, contrari e quindi di ripensare a questa cosa e quindi di non avvallare questo pacchetto mobilità.